Il sindaco risponde Il sindaco risponde durante la settimana e poi vi risponderemo nel corso della prossima diretta Prima di proseguire, sindaco, so che vi siete già informati sulla questione di via Polesine Esattamente, ho detto Campo Rom in maniera errata Sono appartamenti che a suo tempo sono dati a Rom da qualche tempo fa So che c'è un problema di convivenza molto difficile So che da poco sono stati risolvuti i nostri concittadini dall'assessore Bonavina Stanno cercando di risolvere la situazione È difficile la convivenza, obiettivamente tra diverse persone che hanno logiche un po' diverse sia rispetto agli altri So che i due assessori stanno attivamente cercando di risolvere il problema Ho capito adesso qual è anche tra parenti Per cui stanno andarsi da fare i due assessori di competenza Perfetto, quindi insomma questo significa che la situazione è monitorata Sindaco, le leggo un'altra mail molto particolare che è arrivata nel corso della settimana Anzi, è arrivata proprio questo pomeriggio Anche questa li la riassumo poi magari ve la gireremo così avrete tutti i dettagli Ci scrive il signor Walter Antonio che dice che nel cimitero maggiore di Padova è sepolto il suo insegnante di italiano il professor Giulio Alessi deceduto nel lontano 1973 Da qualche anno ha visto sulla lapide dell'oculo la segnalazione di prossima esumazione della salma Negli ultimi anni ha avuto anche l'impressione che la tomba sia non dico abbandonata ma poco curata Ebbene, prof Giulio Alessi si era distinto anche come poeta dialettale insomma aveva avuto una certa rilevanza nella cultura della città è andato a chiedere informazioni all'ufficio che si trova presso il cimitero maggiore ma gli è stato risposto che non essendo un parente lui non può fare nulla e non può avere alcune informazioni di conseguenza chiede se il comune può informarsi se sono ancora in vita dei parenti ed eventualmente contattarli per sapere cosa ritengono fare per l'esumazione e in caso vuole anche sapere se anche se non è un parente eventualmente può fare qualcosa quindi una richiesta molto particolare No, non può fare nulla assolutamente c'è la privacy però chiedo gentilmente all'assessore Benzolini che si occupa di questa cosa si interessa del problema è preciso che se c'è una tomba privata non possiamo fare assolutamente nulla guardiamo le abberature, i vialetti, la pulizia gli spazi comuni per così dire spazi comuni ma non certamente però è un'archiesta molto particolare perché chiedo all'assessore di competenza se trova una risposta Abbiamo un telespettatore una telespettatrice in linea buonasera con chi parliamo e da dove Pronto? Sì, buonasera in diretta Sì, buonasera sono Francesco di Ponte di Brenta Francesco faccia pure la sua domanda al sindaco Allora sindaco io ho 70 anni ho la schiena di la strada le strade qui sono piene di buche abbiamo un supermercato piccolissimo non ce ne sono altri non ho l'auto per muovermi devo prendere il taxi per andare a recarare la spesa e non ho nessuno che mi porta in giro non si può aprire un altro supermercato e sistemare le strade a Ponte di Brenta Grazie, grazie Francesco una buona serata grazie per averci chiamato sindaco la risposta Allora per quanto riguarda le buche sulle strade ovviamente come ho detto prima sono investimenti molto cospicui a brevissimo per sistemare le strade le strade a Pado sono tante devo dire le buche specialmente dopo l'inverno passato ci sono però l'assessore Micarizzi sta andando da fare sia marcia a piedi che strade che illuminazione per quanto riguarda il supermercato io sono ossessionato dal problema contrario sono supermercati dappertutto io so che Ponte di Brenta è in difficoltà in questo senso ma non abbiamo ovviamente la competenza per fare supermercati posso chiedere al distributore se fa supermercati però se non l'hanno fatto vuol dire che c'è poca gente per cui c'è un bacino di utenza molto ripetato c'è il suo problema è una torre abbiamo un problema tutta la parola se ne mettono i supermercati in questo caso qui sia la torre che è Ponte di Brenta ma anche i supermercati però è chiaro che l'iniziativa privata non possiamo sopperire vi ricordo per l'ennesima volta che noi come amministrazione non abbiamo mai dato un metro quadrato di autorizzazione per quanto riguarda i supermercati fino a 1500 metri quadrati sono liberi possono fare chi vuole per cui stanno anche troppi i supermercati in questo caso mancano purtroppo cercherò di vedere se per caso qualcuno vuole fare non certamente un piccolo supermercato mi dispiace per il signore che ha difficoltà di movimento vediamo se riesco a fare qualcosa andiamo con quattro messaggi che sono arrivati per il sindaco di Padova andiamo a leggere il primo di questa nuova serie abito in zona crocifisso nei condomini di via Pinelli proprietà del comune dal civico 23 al 36 le facciate sono particolarmente fattiscenti da anni il degrado avanza vorrei una presa in carico della situazione da parte dell'amministrazione lo chiede Gabriella condomini in via Pinelli la zona è quella del crocifisso sindaco è stata molto precisa la signora Gabriella perché l'ha scritto anche i civici sono di proprietà vostra abbiamo proprio oggi in giunta sarà pubblico anche domani ha effettuato un accordo con Atre che ci sono le case pubbliche per sistemare 720 appartamenti di inizio popolare abitazione quanto riguarda le proprietà del comune non so se siano compresi obiettivamente questo basta domani lo saprò rapidamente ripeto 720 appartamenti saranno ristrutturati completamente con 110 per 100 il bonus famoso in accordo con Atre però questi qui domani so rispondere spero mi auguro che siano comprenuti ne sono 1600 appartamenti che abbiamo 720 sono poco meno della metà sostanzialmente spero che siano comprenuti spero mi auguro e andiamo con il secondo messaggio di questa nuova serie per il sindaco ogni giorno parto dalla cintura urbana per recarmi al lavoro in città e attraverso il cavalcavia Borgomagno in bicicletta in vari orari è bello vedere che le piste ciclabili si riempiono sempre più di persone ma sarebbe necessario creare uno scorrimento ciclabile anche sull'altro lato l'attuale pista è troppo affollata di bici monopattini e pedoni e in alcuni momenti anche pericoloso Cavalcavia Borgomagno Allora siamo stati di lavori importanti su Cavalcavia Borgomagno nel senso che stiamo sistemandolo perché cadono calcinazzi c'è una verità anche particolare proprio perché cadendo i calcinazzi dobbiamo provvedere in maniera notturna con le ferrovie per sistemarla chiaramente è vero sono un piste ciclabili penso funziona abbastanza bene se non ho capito male c'è una parte della pista che è occupata da altre cose se non ho capito male non so se possiamo magari rivedere anche il messaggio così abbiamo più nel dettaglio la richiesta che è arrivata insomma per l'essere è bello vedere che le piste ciclabili si riempiono sempre più di persone ma sarebbe necessario creare uno scorrimento ciclabile anche sull'altro lato l'attuale pista è troppo affollata di bici monopattini e pedoni e in alcuni casi è anche insomma pericolosa sì sì parla dell'altro lato verso ferrovia certo è vero però stiamo facendo i lavori e i lavori penso in primavera sono molto lunghi e anche molto costosi purtroppo però c'è la sicurezza delle tre che passano sotto per cui io spero che in primavera sia risolto il problema per cui ritorna tutto normale un po' di disagio insomma temporaneo perché questi sono lavori importanti impattanti tra l'altro ci aveva detto anche la scorsa settimana il motivo per cui spesso non si vedono è perché si fanno di notte fanno di notte e sono sotto il ponte non si vedono per uno pensa ma non sta lavorando nessuno lavorano di notte sotto il ponte andiamo con il prossimo messaggio Signor Sindaco vorrei chiedere notizie riguardo al rifacimento della seconda curva dell'Euganio che va a completarne il restyling sperando che non venga rifatta diversa dalla prima in modo che lo stadio risulti alla fine assimmetrico lo chiede Renato bella domanda un aggiornamento allora ne approfittiamo anche se ne come fare un aggiornamento sull'Euganio allora io penso che i lavori saranno terminati spero a brevissimo per quanto riguarda la prima parte della curva penso spero in prima sia terminata non c'è nessun provvedimento attualmente per quanto riguarda l'altra parte che è la curva nord stiamo cercando finanziamenti oppure iniziative private per fare qualcosa in comune oppure calcio a padua ma oggi sicuramente quando verrà fatta verrà fatta simmetrica se no lo stadio non sarebbe gradevole e quando sarà completata quella curva saranno 3200 persone che saranno vicine alla squadra per cui per esperienza passata so che è molto importante il tifo vicino alla squadra vuol dire qualche punto in più nel campionato mi piacerebbe ovviamente fare anche l'altra curva però ci vuole risorse pubbliche certamente il comune in questo caso non ha né risorse né la logica di spendere quando ci sono altri problemi come il sociale e via dicendo per cui se ci sono bandi pubblici per reperire risorse come è stato fatto nel primo caso sicuramente sarà la nostra volontà di rifare lo stadio simmetrico non so se abbiamo un altro messaggio per quanto riguarda questa ulteriore serie eccolo qui sì Elisabetta vai pure con il quarto messaggio sono mesi e mesi che le piastre di calcetto dei parchi comunali tre all'arcella e uno a volta brusegana sono senza le porte da calcetto quando le fate installare siamo stufi di aspettare sono passati sei mesi siamo veramente arrabbiati lo scrive Maurizio prima che le risponda sindaco mi collego perché è arrivata proprio questo pomeriggio un'altra mail in redazione proprio su questo tema ha chiamato una signora che è la mamma di un bambino di dieci anni loro risiedono all'arcella e chiedono quando saranno rimesse le porte da calcio al parco Milcovice che mancano dalla scorsa estate quindi così può rispondere a entrambe gennaio ho già riposto prima saranno installate a gennaio sono tante tolte perché avevano un problema di sicurezza e saranno ne ho parlato oggi in giunta saranno ripristinate a gennaio il sessore Bonavina ha forzato molto però ogni volta che facciamo qualcosa dobbiamo acquistare dobbiamo fare una gara ci vuole tempo se le abbiamo tolte in anticipo è solo perché non erano sicure creavano un problema di sicurezza però a gennaio saranno installate vado con un'altra mail che è arrivata negli ultimi giorni arriva dal signor Giovanni che chiede quale sarà il futuro della palazzina ex Coni in piazza all'Azzurri d'Italia all'Arcella lui sapeva che fosse in programma una ristrutturazione per farci una mediateca però dice insomma che non ha più sentito aggiornamenti in merito noi abbiamo avuto conferma del finanziamento per quanto riguarda l'Azzurri settimana scorsa esattamente per 15 milioni per cui abbiamo 30 giorni per rispondere col piano al governo è già finanziato per cui vuol dire che metteremo a posto l'ex palazzina Coni piazzale all'Azzurri d'Italia con figliacchi la parte storica quella che dà sulla strada 60-70 appartamenti di diritto popolare metteremo a posto anche per quanto riguarda con le risorse proprie l'ex il fronte della Chiesa di San Carlo l'ex Area Valli per cui l'Arcella cambierà quel lato lì veramente in maniera importante ricordo che è stata fatta in tutta l'illuminazione per cui il tutto sarà sistemato anche rapidamente perché c'è il finanziamento hanno confermato il finanziamento di 15 milioni di euro quindi si tratta solo di insomma a questo punto solo di metterlo in pratica quando dico rapidamente il rapidamente dell'amministrazione pubblica è un po' più lento di quello che abbiamo in testa però abbiamo risorse sono confermati risorse dobbiamo fare gare dobbiamo fare finalmente gare spero che non ci siano ricorsi tutto quanto cerchiamo di essere più veloci di essere più veloci possibile però voglio mi ha partito di dire una cosa noi abbiamo dei dirigenti veramente bravi io mi reputo fortunato perché abbiamo dirigenti di alta qualità spesso volentieri c'è l'idea che l'amministra pubblica non funziona c'è gente che non lavora non è vero oltre dirigenti anche altri personaggi però oggi non possiamo assumere personaggi ovviamente disposizione governativa e nel contempo dobbiamo fare tantissime cose e le faremo altro che è un po' più lungo di quello che tutti noi pensiamo io in testa perché ogni tanto faccio figuraccio perché dico sarà fatto a breve breve vuol dire 6 mesi 3 mesi e via insieme portate per esempio però stiamo facendo tantissimi lavori ma veramente tanti per cui devo dire che abbiamo dirigenti di qualità sentiamo impegnato con passione con volontà e con voglia di farla abbiamo un'altra telefonata buonasera con chi parliamo e da dove ah buonasera sono Lorenzo e parlo da Padova da che quartiere? Salvoro Salvoro ma faccia pure la sua domanda Lorenzo al sindaco sì buonasera signor sindaco guardi io sono nato 70 anni fa la madonna Pellegrina e adesso abito a Salvoro e le volevo parlare del ponte 4 Martiri ma anche del ponte di Volta Baroccia perché alla mattina e alla sera nel bene in magia cosa è ridotta via acquapendente e via facciolati per via del traffico adesso se passano 70 anni qualcuno ci sta pensando a risolvere il problema qui a Padova Sud un po' come è stato fatto con Caralcaria d'Amanzia e il ponte dell'Unità d'Italia io mi penso che questi due ponti saranno malintenzionanti spero ma sono quelli da tantissimi anni se il programma qualcosa grazie grazie Lorenzo buona serata continuo a seguirci i due ponti sono veramente orribili su tutti gli aspetti esatto già messo finanziato i lavori per quanto riguarda venerciatura e ristrutturazione si sta occupando il sessore Michalizzi per quanto riguarda la manutenzione estetica dei ponti il traffico è una cosa un po' diversa io spero che cambi molto quando saremmo completato le due linee che devono essere pronte per forza entro giugno 2026 se no perdete i soldi del finanziamento perdiamo i soldi di finanziamento in conseguenza queste tre linee nuove due più una ovviamente attiva porteranno 20 milioni di persone all'anno presumo che cambierà radicalmente la viabilità del territorio perché avremo dei mezzi efficienti e veloci oltre ad arrivare bus elettrici ne arrivano a sessantina a breve per cui cambierà sia sotto l'aspetto ambientale sotto l'aspetto della viabilità chiaramente non domani non voglio dire bugie ci vuole un po' di tempo però è importante avere la prospettiva corretta pensare un po' al futuro pensare all'ambiente pensare alla viabilità vuol dire anche ciclabili nuove vuol dire anche monopattini vuol dire piste al senso stiamo facendo anche finanziamenti per biciclette elettriche stiamo cercando di fare limite di disponibilità economica perché non sono limitate qualsiasi cosa per l'ambiente è un spostamento spostamento dolce insomma quindi un po' di pazienza anche per i cittadini sindaco siamo giunti al termine di questo altro appuntamento noi ovviamente ringraziamo tutti i telespettatori che ci hanno scritto che ci hanno chiamato come sempre ci scusiamo con tutti coloro che insomma non sono riusciti a fare la loro domanda al sindaco insomma se possibile rimedieremo la prossima settimana sindaco grazie di essere stato con noi anche questa sera grazie a voi grazie alle domande sono sempre stimolanti molto ben accetti per cercare di risolvere i problemi è un vostro diritto e di migliorare perché c'è sempre come dice lei il sindaco giustamente da migliorare vi ricordo in chiusura velocemente la mail alla quale ci potete scrivere nel corso della settimana il sindaco risponde chiocciolagruppotv7.com e poi leggeremo tutte le vostre considerazioni martedì prossimo nel prossimo appuntamento con il sindaco risponde grazie ancora dell'attenzione e una buona serata buona serata grazie a tutti